Prima a partire da la sua esperienza politica, Ministro, Lavoro, Ambiente, Giustizia, sono anche tre ministeri che ispireranno il suo mandato. Beh sì, credo che sia un bagaglio importante che può essere utile anche alla Liguria. Io so interloquire con i ministeri che conosco molto bene e la Liguria ne ha molto bisogno perché molte delle opere che sono state al centro della discussione in campagna elettorale sono ferme o rischiano di fermarsi anche per difficoltà nel rapporto con le strutture centrali. Poi questo mi consente anche di costruire relazioni internazionali di cui ha molto bisogno la Liguria. Io conosco parte importante di chi governa negli altri paesi e credo che sia un vantaggio, non per il lavoro che dovremmo fare insieme. Ci hanno chiesto di riassumere la sua esperienza amministrativa in breve. Io sono stato eletto in Consiglio Comunale alla Spezia nel 1990. Ho fatto 17 anni l'amministratore locale come consigliere comunale, come assessore. Ho fatto l'assessore alle attività produttive, l'assessore all'urbanistica. Ho fatto il piano regolatore urbanistico della città, il piano regolatore portuale. Ho lavorato per il rilancio del commercio nella mia città, per la difesa del commercio di vicinato. Ho fatto anche un'esperienza da consigliere provinciale, quindi conosco sia la dimensione nazionale che la dimensione locale molto bene. In questi due anni ci sono un po' tornato intorno perché ho visitato 140 comuni in due anni da quando sono stato rieletto alle ultime elezioni politiche perché ritenevo anche giusto, in qualche modo finito un impegno nazionale, perché all'opposizione chiaramente non si hanno vincoli di governo, anche un po' ritornare in una dimensione territoriale con più attenzione. È stato molto interessante, molto istruttivo. Grazie a tutti.